Allora, intanto benvenuto. Grazie. La descrizione che, come dire, che ti può, che può meglio riassumere quello che è la tua attività artistica è quella di folk singer. Te la senti addosso? Sì, sì, e beh, pienamente. Dopo anni di... Tu hai una carriera che è iniziata tantissimi anni fa ormai. Non quantifichiamo, però qualifichiamola. Sì, così almeno non si sa che età abbiamo. Però qualifichiamola, perché insomma hai lavorato con i mostri sacri della musica italiana. Sono un musicista professionista e poi ultimamente ho iniziato questo progetto di folk singer e quest'anno ho realizzato questo disco On Roads of Freedom di musica folk. È caduto anche questo. Va bene. Allora, dicevamo folk, country, rock e un po' di celtica e quindi c'è un po' di tutto in inglese comunque, perché è una lingua globale, quindi infatti sono stato recentemente a Dublino dove ho proposto questo. Ecco, infatti nelle suggestioni di un cantante folk quanti generi musicali entrano e poi vengono rielaborati. Beh, dopo anni di cover, le cover più importanti della storia, della musica, ho assorbito piano piano poco di ogni genere e quindi poi l'ho riposto in questo disco e è venuto fuori On Roads of Freedom. Tu in questo album, tra le altre cose, sei polistrumentista, giusto perché suoni tantissimi suonanti. Qual è lo strumento che però senti riesca a esprimere meglio quello che hai dentro? Sicuramente io nasco come chitarrista, cantante, quindi voce chitarra come del resto proporrò adesso poi sul... Lanciamo l'appuntamento. Allora, ti faccio lanciare l'appuntamento, lancio del disco, facciamo. Allora, ti sentiremo praticamente tra pochi minuti perché insomma facciamo un passaggio veloce proprio perché adesso Rob McCreason sale sul live stage e quindi insomma raccontaci brevissimamente cosa vedremo e poi insomma ci salutiamo perché ti lasciamo preparare. Allora, voce chitarra e presenterò i brani di questo disco che poi si trova anche sulle piattaforme digitali e quindi questi dieci brani faremo un percorso, un piccolo percorso perché il tempo purtroppo è breve, è un piccolo percorso riassumendo un po' tutti i generi che sono inclusi qui dentro, speriamo. Questo è un omaggio così almeno avrai modo poi di valutare se è stato dieci minuti proficui o no. Grazie mille. Grazie. Anche perché ecco non potendoti ascoltare sul palco ti ascolto su cd e poi magari ci risentiremo live. Grazie Rob McCreason. Grazie a tutti. Grazie a tutti.